Ciao amici, ecco un trucco per non pagare le multe fatte con l'autovelox. Allora, tutte le volte in cui l'autovelox si trova su una strada urbana, cioè di città, o una strada extraurbana secondaria, come ad esempio una strada provinciale, dovete guardare la banchina. Cos'è la banchina? È quello spazio che si trova al di là della linea bianca continua disegnata sull'asfalto e che separa il margine della strada con la vegetazione circostante. Ebbene, se l'autovelox viene piazzato ai margini della strada, è necessario che la banchina si ampia almeno un metro. Se la strada non ha una banchina o la banchina è più piccola di un metro, l'autovelox non può essere posizionato in quello spazio. Risultato? La multa è legittima e può essere impugnata entro 30 giorni al giudice di pace o entro 60 al prefetto. Questa è la legge.